Mi chiesto che eravamo supportando un strumento di politica industriale in un paese e non ci troviamo in moto tra quattro giorni, che sono le morte. So hold on to me tonight, hold on to me tonight, we are stronger together, and we could never be alone, so hold on to me, don't you ever let me go? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siete anche di buona stagione per una stagione che si ha, ma speriamo che sia al meglio, perché a Milano ovviamente, come dicevo, domani potete 30 anni. Allora, siamo pronti di iniziare, come dicevo in apertura, sono due le categorie di votanti, tra l'altro nei giorni di viaggio, quindi subito dalla prima categoria, cioè città italiana. Ovvero, noi abbiamo chiesto, immagina una meta gastronomica in Italia, per quale città vorresti partire? Sono tre le città in Italia, Bologna, Firenze e Roma, le vedete? Presidente del premio, Filippo Pozo, ricerco del Parcaiette di Milano. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.